Federico Melchiori si riparte, avevi già dato l'ok alla Recanadese per la prossima stagione, poi non più Serie C, Serie D, ma hai deciso comunque di rimanere in giallo rosso. Sì, avevamo ragionato su un progetto che durava più di un anno, la categoria ovviamente dispiace ad essere scesi di categoria, però le intenzioni rimangono, quindi si continua a lavorare insieme per fare una buona annata. Piena convergenza per quella che deve essere la stagione del riscatto. Sì, tutti coloro che erano qua l'anno scorso hanno una grandissima voglia di riscatto, i nuovi verranno invogliati a dare il massimo e cercheremo in tutti i modi di fare bene. A ripartire dalla Serie D, dopo tanti anni ininterrotti di professionismo, cosa significa per Federico Melchiori? È uno stimolo per ricominciare, per ritrovare quello che magari avevo perso negli ultimi tempi, adesso siamo fatti un bel bagno di umiltà dopo la retrocessione e ripartiamo, cerchiamo di fare qualcosa che possa essere ricordato.